La consulta delle elette ha consegnato una copia del libro Io sono Malala, la storia della giovane pakistana vincitrice del premio Nobel per la pace 2014, alla casa circondariale Lorusso Cotugno, al minorile Ferrante Apporti e all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il programma della consulta prevede di distribuire almeno una copia nelle scuole medie e superiori della regione. In tutto verranno regalate circa 1500 copie del testo. Questo dono vuole essere un messaggio di speranza, di affetto, di condivisione della sofferenza di tutti questi piccoli bambini ma anche di tutte le persone che si trovano in stato di detenzione. Mi auguro che questo libro possa essere uno strumento di compagnia durante tutta l'adegenza ospedaliera perché comunque qui ci sono bambini che stanno male, qui c'è la sofferenza e noi come consulta delle lette abbiamo voluto con questo piccolo dono, questo piccolo gesto, stare vicino a tutte queste persone che soprattutto in questo periodo in prossimità delle feste natalizie hanno più bisogno di amore, di affetto e di calore. Grazie a tutti.